Tutto oggi vi porto in un ristorante qui a vedere quello che vi faccio mangiare. 6 antipastini, 2 primi piatti, frittura gamberica alla mea di cepparanza, babà amare e lemon gel, acqua e vina. Vai tu, ma che buoni di giura vita. Prima subito con un bel antipastino. Allora, polipetto alla Luciana, ucanestrelle, fiadille e gamberetti, polpetta di tonno, orata con patata, alice, durata e fritta e una bella cutaletta orata. Ora vi faccio prima, io riprime la frittura dei pesci. Facciamo portare, bella, 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 andate a camagheri crema. Prefumente, guardate che bellissimo. E ne voglio che non si è accascava, se muoio. La prima piatta, una grande gnocchetta a frutti di mare. Mamma mia. E' una bella pacca di cariccioli con la mamma. Ti ho? Mamma mia, che è? Anche il spettacolo. Mo' facciamo una bella frittura dei pesci. Ho per i primi, una grande frittura dei pesci. Sciamma, la calamaia, lì c'è paranza. Senti, guardate qua qua, che bellezza. Poi io ho per la frittura, un pochettino di limoncello per pulire la bocca. E ho un babbana, cioè non è nada manca, ho un babbana pulitano. Il suo menù a centro tavola. Allora, una bottiglia di acqua per due persone e una bottiglia di vino sempre per due persone. Ok? Vai aspettando a tutto qua. Allora, un pochettino di limoncello.